Giuseppe Galderisi, nato a Salerno il 22 marzo del 1963, è stato un prolifico attaccante degli anni 80. Soprannominato Nanu per la sua altezza di 1,68, è cresciuto nelle giovanili della Juventus, con la quale ha debuttato in Serie A nella stagione 80-81. Una sola presenza, tanto basta però, per annoverarlo nella rosa campione d'Italia. Nella stagione successiva, complice a un brutto infortunio Roberto Bettega, Galderisi, ancora giovanissimo, gioca 16 gare segnando 6 gol, tra cui una famosa e importantissima tripletta contro il Milan. Nonostante la non elevata altezza, Galderisi è bravo anche sulle palle alte, in virtù del suo stacco e della sua scelta di tempo, oltre ad essere rapidissimo in area di rigore e freddo sottoporta. Con l'arrivo di Paolo Rossi, Platini e Boniek però trova poco spazio e nell'estate del 1983 passa al Verona. Qui è protagonista dello storico scudetto vinto dai gialloblù di Bagnoli nella stagione 84-85, anni in cui conquista anche la maglia della nazionale. Sono queste le sue migliori stagioni. Dopo, a causa di molti infortuni, di una non grande continuità nelle prestazioni e il cambio di squadre tra Milan, Lazio, di nuovo Verona, Padova e un'esperienza all'estero, non riuscirà più a ripetere le prove della prima metà degli anni Ottanta.